In attesa che il governo Renzi dia il via libera al decreto enti locali, contenente la cosiddetta clausola Salva l'Aquila e con essa i 16 milioni promessi dai sottosegretari De Vincenti e De Micheli, il Comune dell'Aquila ha approvato, come da copione, inottata il bilancio di previsione 2016. Un documento in cui sotto molte voci, dalla cultura al sociale, spicca il numero zero, pari agli stanziamenti che l'ente destinerà a quei settori. Si sa già invece dell'aumento della Tari, la tassa sui rifiuti, che per ora non aumenterà di un ulteriore 30%, ma resta da capire cosa accadrà in futuro se da Roma non dovessero arrivare nuovi fondi. Un via libera contrassegnato dalle tensioni, su tutte quelle testimoniate dalla rissa, solo verbale, tra il sindaco Cialente e il consigliere comunale Giorgio De Matteis. Un durissimo botta e risposta a cui, dopo le 11 e la pizza mangiata tutti insieme dai consiglieri, nell'aula delle commissioni è seguita una stretta di mano. Ma anche nella maggioranza le fibrillazioni erano e sono all'ordine del giorno. Come annunciato, se la rifondazione comunista non hanno votato il bilancio, con i consiglieri Perigli e Masciocco, che hanno optato per l'astensione. Una scelta nell'area da giorni, ma che è destinata a ridisegnare gli equilibri nella coalizione di governo. Gli assessori di riferimento di Sella e Rifondazione, Penini e Leone, sembrano già con le valigie in mano e si attende una riunione, annunciata nei prossimi giorni, in cui la decisione del sindaco e dei suoi verrà ufficializzata. Difficile ricostruire lo strappo di fronte a una presa di posizione tanto netta. Di fatto, l'ala di sinistra della maggioranza ha espresso, anche se tecnicamente ha garantito i numeri per l'approvazione, una presa di distanza di fronte a uno strumento, il bilancio, che si può configurare come una fiducia excelente alla sua maggioranza. Del resto, lo strumento finanziario è stato approvato proprio sulla scorta di una promessa fatta dal Governo nazionale ed è proprio sulla fiducia che questa venga mantenuta che è arrivato il via libera dell'Aula, con i soli voti della maggioranza. Dalle opposizioni veleni e critiche, come da copione anche in questo caso. Nuove assunzioni fuori dagli elenchi degli idoni della selezione Ripam, il cosiddetto concorsone, quello bandito dopo il terremoto, per le assunzioni di circa 300 persone a tempo indeterminato da impiegare negli uffici della ricostruzione. L'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila, guidato da Ragnero Fabrizi, secondo quanto denuncia il Comitato degli idoni del Ripam, si appresta infatti ad avvalersi di personale scelto attraverso un'agenzia interinale. Il Comitato, in una nota, ricorda come anche in passato aveva più volte inviato a utilizzare le graduatorie degli idoni del Ripam, piuttosto che a ricorrere a nuove e costose procedure selettive, peraltro nel caso delle agenzie carenti dell'opportuno criterio di trasparenza e pubblicità. Rileviamo, scrive il Comitato, altresì che le motivazioni adotte per giustificare ogni volta il ricorso alla somministrazione di lavoro, quali la selluta urgenza e la limitatezza del periodo di tempo in cui tale mole di lavoro dovrebbe essere smaltita, sono puntualmente smentite dai fatti. Giova a ricordare a tal proposito la deliberazione congiunta 1-2013 dei titolari degli uffici speciali dell'Aquila e del Cratere, che così giustificano la necessità di ricorrere, per la prima volta, alle agenzie interinali per l'organizzazione d'urgenza dell'ufficio centrale Spropri. C'è da domandarsi, quindi, scrive il Comitato, quale politica sul personale voglia seguire Rustra, che ha già al suo interno 22 collaboratori, di cui solo 5 assunti dall'egrodatore Ripam, 10 unità di personale dipendenti dalla società Bruce Engineering, 18 unità di personale somministrato dall'Agenzia di Lavoro Interinale e si agginge con questo nuovo atto ad assumerne altri 10. Pensa davvero tale ufficio speciale di approcciare il difficile compito di ricostruire una città capoluogo di regione, ricorrendo sempre più spesso a personale selezionato da un'agenzia che non ha personatura, al suo interno professionalità idonee a valutare le competenze richieste, continua la nota. Si preferisce tale modalità all'assunzione di idonei, già appositamente selezionati e valutati da commissioni composte da perfetti e dirigenti, ministeriali e nominate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri? Prendiamo atto con amarezza di questa ulteriore ingiustizia, affermano gli idonei del RIPAM nella nota e ci preme informare tutti i cittadini sulle modalità con cui gli uffici deputati della ricostruzione selezionano il personale che istruisce le pratiche per la ricostruzione delle loro case e su come si decida di investire il denaro pubblico. Dal Salone della Ricostruzione agli incontri internazionali di restauro e riqualificazione. È un passaggio ideale quello che accompagna l'avvio della tre giorni dedicata ai processi post-terremoto che fino al 26 maggio prossimo animeranno Officina L'Aquila, promossa da Anci Abruzzo e Carsa all'auditorium del Parco. Oltre 3 miliardi e mezzo per la ricostruzione privata e più di 350 milioni per quella pubblica, numeri importanti snocciolati nella prima giornata di incontri in cui gli addetti ai lavori hanno espresso fiducia nel futuro e giudizi positivi su ciò che è stato fatto finora. La ricostruzione è a buon punto nel senso che le periferie sono state completate, il centro storico si è avviato in maniera abbastanza consistente quindi ha preso forma. Ma la tre giorni vuole coinvolgere la città, studenti e tecnici per far capire quali sono le potenzialità di un modello di ricostruzione che si punta ad esportare anche fuori confini nazionali. Continuare quello che è sempre stato un dibattito all'interno del Salone della Ricostruzione dello Stato dell'Arte. Nello Stato dell'Arte fortunatamente quest'anno è molto più tranquillo, c'è un ottimismo in giro importante e quindi si può incominciare a parlare non più solo di ricostruzione economica ma anche di ricostruzione sociale del territorio. Poi c'è un momento di approfondimento importante sui temi strategici della riqualificazione edilizia e quindi i temi della Smart City, del risparmio energetico e infine il terzo giorno il tema del restauro con consolidamento. Un tema che vede l'Aquila assolutamente centrale a livello mondiale perché in questo luogo si stanno utilizzando tecniche e tecnologie con un'intensità che non ha pari a livello mondiale. Una situazione quindi strategica che va utilizzata sia per migliorare la ricostruzione aquilana ma che come sarà possibile vedere con i cantieri aperti è già di livello altissimo ma principalmente potrà servire per esportare la qualità delle imprese e dei progettisti a livello nazionale ed internazionale. In parallelo appunto a queste tre giorni poi ci sono i cantieri aperti, una serie di imprese aprono i loro cantieri a visite guidate e attraverso questa iniziativa sarà possibile vedere la meraviglia di quello che sarà il futuro dell'Aquila a breve. Grazie a tutti.